Si tratta di un concorso attraverso il quale verranno individuate due opere di public art che verranno poi ad essere realizzate sulla diga del Vaionta e sulla parete meridionale dello spazio di Casso, che si vuole così trasformare in spazi proiettivi che propongono immagini rinnovative per questo territorio. Io ho sempre visto un aspetto molto positivo in queste proposte che porta un cenno di vita al Paese che andava spegnendosi ormai anche da parte dei suoi artisti che hanno manifestato l'intenzione anche di dare un aiuto al Paese sia a rivivere che a continuare la vita nostra abituale di tutti i giorni. Cucos è una call che sembra non cristallizzarsi ad un evento specifico ma che cerca di intessere relazioni. Crediamo che possa giocare perché sembra che l'intenzione principale sia quella non tanto di avere un vincitore con un prodotto specifico ma tanto di portare alla luce questo territorio e le cose che si possano fare su questo territorio. Credo che Cucos possa gettare le basi per un progetto ambizioso in cui figure diverse si trovino a collaborare attorno ad un'area tematica così importante e così caratterizzata. Credo che veramente si possa attraverso operazioni di questo genere non abbandonare la memoria ma far sì che questa diventi uno stimolo per un futuro che sia di vita. È molto importante guardare al territorio in tutte le sue sfaccettature anche in quelle che hanno comportato dolore o abbandono e quindi la relazione tra gli artisti e questo genere di luoghi è particolarmente importante. Ho immaginato di valorizzare chi aveva deciso di continuare a vivere qui con l'amore e attraverso il proprio mestiere. Hanno deciso di continuare a vivere in un posto che a tanti altri giustamente ha fatto orrore, ha fatto paura, sono scampati via e in pochissimi sono rimasti qui e vivono nonostante la fatica. Sono venuta diverse volte qui a Casso e mi piace lo spirito che Gianluca ha nel lavorare e quando mi ha parlato del concorso mi è piaciuto il modo in cui lui si pone di fronte a questo luogo. Sono stata qui a vedere questa diga e ho avuto subito una grande sensazione di rifiuto. Poi, poiché mi ero innamorata invece di questo paese Casso, questo paese di pietre, poi il tipo di concorso che era stato attivato da Dolomiti Contemporanea capivo che era qualcosa di importante e forse era anche giusto cercare di fare una riflessione e farne un lavoro. Abbiamo deciso di partecipare a questa proposta perché ci siamo sentiti anche un po' in dovere di lavorare sul nostro territorio e di poterci approcciare con una modalità di ricerca. È stato un forte richiamo dovuto a questo luogo che penso sia motivo di forte stimolo creativo anche per gli obiettivi del progetto. Ho partecipato a Ciucorsa per una questione di affetto dei territori che, far virgolette, mi appartengono, per cui sentivo il bisogno di esprimere un qualcosa, in questo caso un lavoro artistico. Tanto forte la sproporzione tra le forze che qui si sono scatenate, forze naturali, non comunque sensualmente naturali, e tanta è la mia empatia con questo territorio per quello che è accaduto che mi sono sentito coinvolto in prima persona pur essendo così distante. La storia del Vaillant e dei paesi qui accanto è assolutamente coinvolgente ed è una storia da raccontare e da continuare a raccontare. La storia del Vaillant e dei paesi qui accanto è assolutamente coinvolgente La storia del Vaillant